La marina è dentro la valigia in realtà Oh lo so, è anche buona Perché c'è una sedia dal mare? Ragazzi vado a cuocermi la faccia Fatemi alcuni per i pantaloni 3, 2, 1 Feel like a shake, oh yeah In realtà vi abbiamo mentito, stiamo prendendo uno shuttle per andare sulla luna Benvenuti in una lunga serie di video da Las Vegas Questo è solamente il road trip to Las Vegas Arriveranno tantissimi video nei prossimi giorni Sia sul mio canale, sul canale di Sasha C'è Sasha qua che ci crediate o meno e non è un fantasma C'è anche Surry qua che sta editando Ciao Surry Mentre Vegas è in bagno quindi adesso meglio non disturbarlo Mi raccomando ragazzi, 40 milioni di piace per il prossimo video E non mancate sugli altri canali Buona visione, ciao Bene ragazzi, qua è Stefanie e bentornati in questo nuovo video vlog super straordinario Perché si parte per Las Vegas Sono con la Marina che mi sta aiutando a fare la valigia Ciao Marina Ciao Ci vediamo tra 6 giorni Tieni qui Tornerò Promesso E non mi sposo Va bene? Deve fare la cernita per le cose da portare Andiamo a Las Vegas Ci porta Tom's Hardware Che è il nostro network Che c'è il CES 2016 Ovvero tutte le presentazioni degli oggetti informatici di quest'anno E per mantenere la sua promessa Vegas ci regala una stanza di hotel per due giorni Una stanza fighissima e ancora dobbiamo vedere sarà il suo speciale dei 500 mila E io sono qua in corso con i video ragazzi Sto guardando la programmazione Questa è la mia cartella dei video pronti Guardate Vediamo se riesco a inquadrarvela Video quando sono a Las Vegas Proprio un italiano corregiuto Ovviamente mi porto il libro della Marina E sono appena stato a comprarmi le cuffie perché le altre mi si sono rotte E vedrete Che cosa è successo Lo vedrete nel video di domani pomeriggio Adesso faccio la borsa se no non finisco mai in tempo Vado alla stazione e sono in treno con Sasha Quindi a tra poco Ciao Davide Ci vediamo tra una settimana Ciao Sono arrivato alla stazione E sono al binario 12 Il treno ci sa già dov'è Assurdo Io e Sasha siamo nell'executive Per la seconda volta della mia vita Mi farò un viaggio in executive Vi faccio vedere quanto è figa C'è il binario ma il treno ancora non c'è Vabbè sciolo Il treno è arrivato Rigorosamente carrozza 1 In fondo alla parte opposta della stazione E ora andiamo a rompere i coglioni a Sasha La mucca con la GoPro Mucca mu tutta la carrozza Tutta la carrozza Tutta l'ho presa Ciao Stefanino Che stai facendo? Boia stai lavorando Pensavo che volevi rimanere con la marina Volevo portare anche lei La marina dentro la valigia in realtà Vogliate provare Sasha in 3D? Eccolo qui Ma in 3D me lo dovrò dare loro schiava? Guarda quanti stompi prendi a Las Vegas Bam Bam Lo vedi questo dietro la lunga Boca puttana Non c'è nessuno qua? No sono usciti tutti a Bologna Bella roba Sasha muoviti che dobbiamo mangiare Ora ci apparecchiano Cosa hai ordinato? Let's go Tac Tovaglietta Posate Guardate Sasha Ora rompe tutto Wow Lasciacelo sopra Riusciremo a mangiare Sasha per colpa tua o no? Non l'ho rotto io il tavolino Suormatino Buono Questo sinceramente non so cosa sia Panforte della nonna E poi i taglierini al ragù di cinghiale Bam Anche i tagliolini sono arrivati Sasha con i tortellini Guarda Agnolotti si chiama Aspetta fatti mettere a fuoco Ho detto agnolotti? Non sei a fuoco agnolotto? Va a fuoco Sei a fuoco Hai visto? Non più Guarda un palloncino E' un cucchiaio Sasha E' un palloncino E' un cucchiaio Guarda Mi porta su Sei sempre lisa Sono troppo pesante Ora sei a fuoco finalmente Vedi mi vado Tortellini Se dobbiamo stare sei giorni insieme Sarà pericoloso Può sembrare Che abbiamo già mangiato in treno E siamo a tavola di nuovo Però è colpa sua Non è vero Colpa di Tudor Non è vero E nella sorpresa Con il tavolo in omaggio C'era Papa Vegas a Tereboli Era alla limite dei 10 anni E' arrivato il cibo Filetto di carne Tudor ha preso il panino Ma noi a Las Vegas Ne mangeremo un sacco Quindi anche Sasha Ha preso la carne Vegas ha preso il pollo Pollo si Qua ci sono questi cosi qua Che sinceramente non so cosa sono Tudor Meglio quello Non mi piace il cibo Non mi piace il cibo E' cervo E' pollo No Cazzo è pollo Per concludere in bellezza Bam Cheesecake E cosa mangi Crecco E la Sasha E' sempre colpa tua Non ho fatto niente E' anche buona E' arrivato Surry 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 Siamo arrivati in albergo E guardate Ci hanno già messo il segno orario Per New York Visto che domani Dobbiamo fare l'atterraggio A New York Scalo di 4 ore E poi si parte per Las Vegas Molto bello questo hotel Personalmente è figo Dopo vi faccio della camera Appena arriviamo Siamo al primo piano A 10 metri dalla reception Dov'è? 107 Metti la chiave Si fa un bel unboxing Della stanza Porca Io chisco la presidential Questa è la 107 Io non c'ho la della cama Del birri Cia Minchia che puzza Anomala No giuro che qui c'è morto qualcuno Oh mio dio che puzza di merda Giovanni testa dalla puzza Che schifo Ragazzi è l'unica volta che Surry ha preso Scegliere quello Surry E finiamo nella merda La prima volta Paradossalmente il bagno È più profumato della stanza Iniziamo dal bagno Unboxing molto semplice La vasca che odio Con la tenda poi Mamma mia Quello mi ispetterà tra pochissimo Ve lo giusto esplodendo Vabbè il bidet Uh la cassa Sulla cassaforte Un armadio Avevo anche il sacchetto della sporco Sì Niente ci abbatte però Della sporco Qui c'è una sedia da mare Perché c'è una sedia da mare E poi la nostra bellissima room Con bega sul letto Un bel puzzo che c'è Il frigo bar Oh yeah Non può essere vuoto Anche questo dai C'è un'acqua Un'acqua sola Roba per il cestino Perché il cestino è sul tavolo Guarda che topaia che c'è qua Ma la finestra da sulla strada Sul giardino da Ma che cos'è Adesso spengo l'aria Però prima test del letto Vuoi non fare il test del letto Test del letto obbligatorio Eh il letto non è male Non è male? No Vediamo Tuffo carpiato arrotolato Poteva andare peggio il letto Sì peccato che non dobbiamo dormire Però vabbè Dobbiamo stare svegli Perché dobbiamo dormire Nel volo Che arriva a New York E poi stare svegli New York Las Vegas Sarà tosta Vabbè A tra poco devo cagare Oh yeah Giuro è già marrone la cartigenica Inizia male questo viaggio Questa avventura Perché è sempre in mutande Perché sono appena uscito dal bagno E Vegas mi ha cambiato L'account Mi è uscito dall'account Ragazzi vado Vado a pulirmi la faccia Facemi levar i pantaloni Sono andato a fare la cacca Mi sono cambiato Perché voglio mettermi in pigiama Mi sono pegato Sono andato a fare la cacca Mi sono cambiato Ho detto Le prese non funzionano Sascha Perché sei ancora in mutande Stefano? Ti faccio vedere come si indossano i pantaloni In un secondo C'è C'è Sei da là Attento Vai io ti spingo Aspetta Vai 3 2 1 Inquadra 6 Vai Il 2 3 2 1 Ho 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 Ragazzi la magia di led Non ha fatto un cazzo Ce l'hai messo normalmente Cosa hai detto? Le c'ho parte Cazzo scoregi che già qua c'è il pulso Vogliamo un prefavore non iniziale Sprengi la videocamera La schiva Matrix Aia 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 Andare sul carro armato A sparare le mucche Vergognati la Guarda Spaparanzato come un caprone Morto cerebrale Persone Io Ado fare Il bagno Ciao Guardate che bello Tutta la schiuma E l'acqua calda Che Vi vedete perché è celeste Vabbè Feel like a shake Dico Oh yeah Bagno finito Ti è svegliato Guardate Sasha che dorme Quanto è carino E Suri non c'è Chissà dov'è Ciao Sasha Noi andiamo a far colazione Ti facciamo una fanculo Ma fanculo Non è un problema Se esco Siamo in questo modo Che ci siamo con le sciabatte Facciamo vomitare un po' I nostri iscritti Non so perché ma mi sembra Di essere vestito In stile scrubs Per la cronaca Sono le 6 del mattino C'è anche la Renna Ciao Renna Non ti si fa No fammi ti inquadrare un attimo Non so se è il Power Ranger Il più sfigato Che voi abbiate mai visto Non sono un Power Ranger Io sono Turk Però non sono nero Perché le persone Mi guardano male Cioè un botto di roba Pancetta Uova Salsicce Affettate Verdure Il dolce Io però stavo cercando il pane E di pane C'è solamente Questo qua E devo metterlo a tostare Panino col bacon Come ce lo vedi Non posso farmi un panino Bacon e uova Invece lo faccio C'è più uova che pane Come fai a mangiare così tanto Ma questa roba Non mi aveva mangiata io Io ho mangiato una fitta Con burro e marmellate Ci sono a posto No l'hanno mangiata Anima in Vegas Però non ci sono più Sono andata in camera Prendiamo un po' di succo Siamo nel taxi Per andare all'aeroporto Sì Io mi sono anche svegliato Adesso mi sono svegliato Sono le 7.40 Sono in after Non ho dormito neanche Un secondo Forse un minuto in doccia Perché sono dormita In doccia Ma ti sento il bagno? Sì vabbè in doccia vasca L'aeroporto tipo alle 10 e mezzo Però l'ultima volta Abbiamo avuto problemi con l'esta No poi il tuo Sì vabbè il mio esta Non si sa di niente Perché è buio Questo ci vediamo tra poco In aeroporto E la madonna Quanto è luminoso oggi L'altra volta non era mica così Perché siamo arrivati noi Dobbiamo impacchettare la valigia Sì abbiamo proprio svegliato termina Dobbiamo farcela a piedi Che bello Ho trovato la divinità di Sasha La lumaca gigantesca Pronti per il nastro Più lungo della vita In realtà vi abbiamo mentito Stiamo prendendo uno shuttle Per andare sulla luna Aia Io sono salutare Vado per le scale Surry non è salutare 9.30 Tra un quarto d'ora ci imbarcano Io sto editando il video di Happy Wheels Qui c'è Sasha accanto a me Lì c'è Papa Vegas E Surry l'abbiamo scambiato In cambio di una bottiglia di tè Ho preso il tè in cambio di Surry Non potevo papà Il giorno siamo saliti Sulla aerea